black black come ci chiami? ti ricordi? black boh sì ho qui due cose per lei ovvero due scelte cos'è ragazza? prendo l'energia di tutto e pian pianino di tutta la strumentazione un demone che ha pronunciato ai nostri microfoni la parola il nome Hitler noi questa sera vorremmo mettere la parola fine a questa storia rispettiamo quello che lei ha costruito in tutti questi anni la persona che lei è stata con non mi guarda si ponte non mi faccia spaventare via 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 via..vaci vai veloce cos'era? cos'è stato? occhio a me via via si via 1, 2, 3